Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi iniziamo a parlare di Martín Lutero. Vi avviso subito che ci saranno tutta una serie di video, quindi di incontri, su questo grande monaco agostiniano, quindi non è certo in questa lezione che potremo rispondere a tutti i grandi interrogativi. Faremo tante lezioni nel corso del tempo, non solo questa. Come potete vedere Martín Lutero nasce nel 1483 e morirà poi nel 1546, quindi un uomo vissuto tra la fine del 400 e la prima metà del 500. Fu anche un grande teologo, docente universitario, perché poi gli verrà chiesto di insegnare anche all'università. Vedremo poi che cosa accadrà durante lo studio delle sacre scritture ed è importante chiarire subito un concetto. Martín Lutero è ossessionato dalla salvezza. Il problema di quest'uomo, nonostante fosse vissuto già nel 500, siamo già in pieno umanesimo e rinascimento, eppure lui continuerà a vivere a causa della sua infanzia in un mondo pieno di superstizioni, perché vedremo che sia la Sassonia e soprattutto poi la Turingia dove vive è un ambiente pieno di superstizioni, si crede molto ancora agli ignomi, alle fate, ai demoni, agli spiritelli, e quindi vedremo che nonostante appunto i tempi la mentalità risulti molto arretrata, però in lui il problema fondamentale, teniamolo bene a mente, è quello della salvezza. L'uomo deve ricercare una via per entrare in contatto diretto con Dio. C'è il problema della salvezza eterna. Cosa posso fare per non morire? In che modo? Posso essere sicuro e certo che Dio mi perdonerà e cancellerà tutti i miei peccati? Ecco, tutta la vita di Lutero è incentrata su questa ricerca e vedremo che tutte le possibilità che offre la Chiesa Cattolica vengono colte sia da lui ma soprattutto dal popolo, quindi pensiamo ai pellegrinaggi, alle indulgenze, alle penitenze, ai digiuni, a tutti i periodi importanti dell'anno, l'Avvento, la Pasqua, ma nonostante questo Lutero percepisce che qualcosa ancora non funzioni, c'è qualcosa che non va, sarà perennemente insoddisfatto e in costante ricerca. Qui vedete ho disegnato una linea del tempo, vedremo le tappe più importanti, mi baserò soprattutto su un lavoro molto interessante che ha condotto il professor Roland Bighton, uno studioso che ha insegnato storia della Chiesa all'Università di Yale ed è morto nel 1975 e poi ogni tanto citerò anche qualcosina da questo libro che però sto ancora leggendo anch'io, si intitola Riforma, la divisione della Casa Comune Europea che tratta il periodo dal 1490 al 1700, quindi sarà molto interessante perché poi lo approfondiremo, del professor McCulloch il quale invece insegna a Oxford. La prima tappa che ho segnato qui l'ho intitolata Il Voto perché nel 1505 mentre sta tornando a casa di notte viene colto da un temporale e subito si getta a terra, è terrorizzato, ha paura per la propria vita, teme di dover morire, lui è molto giovane e quindi che cosa può fare un uomo di quell'epoca? Mettersi a pregare e offre subito un voto a Sant'Anna, giura di farsi monaco se la Santa gli avesse risparmiato la vita e ovviamente lui si salva e quindi pur non avendo la vocazione decide di entrare in monastero e questo la dice lunga subito sulla mentalità dell'epoca, sì è vero siamo già tra l'umanesimo rinascimento eppure questi personaggi ancora credono in maniera cieca con fervore alla chiesa e soprattutto alla religione, quindi è una mentalità, uno stile di vita completamente diversi dal nostro, però Lutero è pieno di contraddizioni perché? Perché notiamo che l'uomo che aveva invocato una santa appunto per aver salva la vita avrebbe poi respinto il culto dei santi, quindi qui sto sintetizzando tutta la vita di Lutero, l'uomo che faceva voto di diventare monaco poi avrebbe abbandonato il monastero, la funzione di intermediario tra Dio e l'uomo da parte della chiesa diventa inutile proprio perché ogni cristiano è sacerdote di se stesso e del mondo, quindi è sacerdote universale, quindi tutti noi possiamo dialogare direttamente con Dio, possiamo pregarlo, non ho più bisogno di un intermediario, quindi il clero è totalmente inutile. E poi quel fedele servitore del Papa un giorno avrebbe identificato il Pontefice con l'Anticristo, vedremo che al tempo di Lutero abbiamo due papi importanti, Giulio II della Rovere e Papa Leone X, uno dei medici, proprio Leone X, prima con la bolla exurge domine del 1520, condannerà tutte le sue idee eretiche, tutte le sue tesi contrarie alla dottrina cattolica, e lo esorterà a rinnegare tutte le sue affermazioni, poi con la bolla del 1521, la decet romanum pontificem, Leone X lo scomunicherà. Ed è interessante perché un giorno proprio quel monaco, quel fervente cattolico, avrebbe abbattuto l'edificio della chiesa cattolica addirittura dalle sue fondamenta, perché appunto l'avrebbe spaccata in due. Dopo di lui niente più sarà come prima, da una parte i cattolici e dall'altra i protestanti, i luterani appunto. Parlando poi più da vicino di Lutero, chi è Lutero? Naturalmente è un uomo molto particolare, un grande religioso, costantemente alla ricerca di Dio. Abbiamo detto la sua ossessione è proprio quella della salvezza. Lui si sente sempre inadatto, cioè l'uomo con le sue sole forze non ha la possibilità, non ha la capacità di salvarsi. Vedremo che arriverà a pensare, poi a predicare, che l'uomo è salvato per sola grazia, cioè solo grazie al gratuito dono di Dio l'uomo può essere salvato. Quindi qui le opere non c'entrano più nulla, celebre la sua frase, non sono le opere buone che fanno l'uomo buono, ma è l'uomo buono che fa opere buone, cioè non è grazie al numero delle mie azioni positive, non è certo comportandomi bene che mi posso guadagnare il paradiso. E guardate che questo è un insegnamento che va contro i precetti e la linea della Chiesa, perché la Chiesa insegnava invece a compiere il bene, quindi ad agire per il bene. Vedremo che a questa idea Lutero arriva attraverso una lettura particolare sia delle lettere di Paolo e anche di Agostino, un uomo che ha continui sbalzi d'umore, soprattutto costanti crisi interiori, cioè lui quando si confessa passa anche ore intere davanti al proprio confessore perché ha sempre il timore di avere dimenticato qualcosa e dopo essersi alzato dal confessionale pochi minuti dopo, qualche ora dopo, subito ritorna per confessarsi di nuovo. Quindi davvero tutta la sua ricerca è interiore. Attenzione a questo aspetto, a Lutero non interessa scatenare una guerra, lui non è alla ricerca della notorietà, non vuole dividere i cristiani, la sua è davvero una cat, una ricerca totalmente interiore, lui non è interessato alla politica, poi vedremo addirittura che con tutti i suoi impegni non avrà proprio il tempo per combattere, per lottare, non era quello l'obiettivo. Lui è un monaco, quindi ha già tutta una serie ovviamente di impegni, le sue giornate sono scandite in maniera precisa, entra all'università come docente, quindi deve anche insegnare, deve correggere, deve preparare le lezioni e soprattutto poi deve dire messa, quindi non può permettersi il lusso di perdere tempo o di seguire tutte le scaramucce o le beghe interne della chiesa. Lutero è figlio di contadini, ecco, il padre però non avendo più campi, non avendo insomma grandi possedimenti, cambiò lavoro, fece fortuna con le miniere, quindi entra in miniera, è una famiglia agiata però non certo ricca, tanto che la madre deve continuare comunque a portare legna, quindi fanno lavori molto umili, però Lutero ebbe una severa e una rigida educazione, addirittura lui stesso ci dice che veniva anche picchiato a sangue e poi cita anche la frase che vedete, tra virgolette, sono figlio di contadini, ci sono stati però contadini che sono diventati re e imperatori, cioè proprio per sottolineare il fatto che grazie comunque al lavoro del padre è riuscito ad avere una buona istruzione. Suo padre, lo vedete qui sotto, Hans Luther, volle per il figlio un'istruzione molto importante, molto approfondita in campo giuridico, cioè il sogno del padre era che il figlio diventasse un avvocato, un esperto del diritto e la madre, la vedete invece sulla destra, Margarete Ziegler, quindi viene spesso anche picchiato, maltrattato, quindi non è stata sicuramente un'infanzia semplice quella di Lutero. Ed è interessante perché Lutero è nato ad Heinz Leben in Sassonia, la vedete nella prima immagine in alto a destra, e poi vivrà nel corso della sua vita anche in Turinja, nella seconda diapositiva, quindi ho segnato le due regioni della Germania, e in questa zona, quindi nella parte centro-nord della Germania, si respira ancora questa atmosfera medievale, pur essendo già nel Cinquecento, è quello che dicevo prima, ancora un popolo legato alla superstizione pagana, quindi sono idee, superstizioni, credenze che faticano a morire, la Chiesa stessa non riesce a sradicarle, proprio perché sono ben inculcate nella mente del popolo, e quindi voi potete capire che, aggiungendo anche il problema dell'analfabetismo dilagante, è chiaro che queste persone sono molto lontane dal nostro tipo di mentalità, o comunque da una mentalità più moderna e più aperta rispetto, per esempio, ai grandi umanisti dell'epoca. Ed è ancora una regione ricca di chiese, di conventi, di ordini religiosi, in molte città ci sono anche 7, 8, 10 ordini religiosi diversi. Nella seconda parte, e in quelle future, continueremo il nostro lavoro di approfondimento su Martín Lutero. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione. A presto!